Sì, vai! Mamma! Ah, te stai andando? Ciao a tutti, benvenuti nel canale della Mesa! Questa è una puntata speciale natalizio, oggi giochiamo Brawl Stars da Supercell, un gioco nuovo, uscito! Supercell non è un gioco, però! Non c'è ancora chi sei! Non sono Johnny! Non sono Johnny! Ok, iniziamo! Questo gioco è bello! Ok, sto registrando! Sì, sto registrando! Salutiamo il cameraman! Ciao cameraman! Ciao cameraman! Buon Natale! Ah, è vero! Questo è il primo di... Giusto! Come si chiama? Questo è il primo... Noooo! Merda! Merda! Aspetta! Anzi! No, è troppo forte! Cazzo, mi ha ucciso! Ops! Qualcuno ha ucciso qualcuno! Io ho ucciso qualcuno! Ma no! Quello con le consigliette! Chi è quello con le consigliette? No, io! Merda! Va! Troppo forte! È morto! Scappa! Troppo forte! Sì, ma... Sono troppo forti questi, dai! È un bel povero risparmio! È un bel povero risparmio! In chi ha 5 gemme... L'abbiamo perso già! Ma immagia! Dove sei? Dove sei? Che potente! Ma perché cazzo mi state facendo usare Shelly? Che è bruttissimo un personaggio! No! Perché non ne abbiamo altri! Non abbiamo giocato abbastanza! Ok! Non mi avete fatto giocare ancora! Ma perché? È tardi! È tardi! È tardi! No! No! Non cazzo lo stesso! Merda! Dai! Maledetto! Ok! È morto! Ok! Gemme! Gemme! Ci siamo! Dai 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 dai! Attenti! Attenzione! Chi è morto? Io! Aiuto! Mi hanno ucciso! No! Cazzo! Avevo tutte le gemme! Mamma che palle! Dai! Perché non fa male? Chi è? Mannaggia! No! Abbiamo perso! Sono troppo forte! Che palle! Fate un mini taglio! Ci riproviamo! Sempre in questa modalità! Giochiamo ancora? Sì dai! Deve amascarsi! Vai! Siamo! Siamo! Ok! Appolante! Vai! Questo video verrà pubblicato il 23 giusto? Sì il 23! Il giorno del mic! Anzi il giorno del mic! No! Oh di nuovo! Il mio cellulare si sta scaricando! Yeah! No è morto già! Che è successo? Dai adesso ci scappa! No! C'è pure il luciador! Ah! Ma peggio! Peggio di peggio! Questa qua salta! Sì ho preso la gemme! Ma perché è tutto spagnolo in questo gioco? Tutto messicano! Oddio! 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 dai dati del tiro dai dati del tiro è un po' di persona scappa 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 no che è successo? t'ha ucciso vabbè avevo solo due generi un po' prendetela prendetela è una trampola lo sapevo è un bastardo attenti a quel liquido seminale non puoi dire queste cose non ce ne frega un cazzo no no le ho prese con rigore proteggetemi nascondetemi no dai 12 qualcuno deve fare la esca qualcuno che non ce le ha io ne ho 8 dai 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 abbiamo vinto 3 2 1 vai abbiamo vinto mi diceva l'arma in attività e la prima l'abbiamo vinto ok prossima modalità direttamente ora facciamo io ho sopravvivenza e non ce l'ho lo posso fare lo stesso anche se non ce l'ho in due si può giocare facciamo rapina allora si lo puoi fare lo sai che ce l'ho io forse potenziare nita la modalità survival no solo in due sei sicura ora dobbiamo uccidere le casse anzi la cassa dove sta andando miguel su me aiuto chi cazzo mi ha saltato di sopra ci sono due miguel aiuto ah allora siamo a posto abbiamo perso ok sarà per la prossima ma che forte oddio no vabbè però busco qua e nooo che sicura comunque io gli ho fatto due colpi sicura pure mmm come si permette mi sta accassando dai anche a me sta allangando nooo l'abbiamo perso arrivederci nooo aspetta no no non l'abbiamo perso vedo un orsetto ecco vai loro sono qui da noi gli sto fac...ok gli ho fatto danni vai vai fate danni alla casse e che palle sto orsetto niente mi hanno sbottato ormai mannaia ma non so ma apre 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 no lontana della miseria ah dai mi conservo l'orso per quando siamo vicini alla cassa ma poi ho fatto sto poco mi sentiamo sto poco io no sicura no bravo bravo tizio bravo sono io tizio bravo bravo tizio niente il tuo cringe quotidiano dai dai che così dai gliela buttiamo giù buttiamo giù anche a loro stifi ok allora 36% ce l'abbiamo fatta eh ma noi siamo a 37 anzi e loro 33 però ok vabbè andate un attimo avanti veloce mercolese non sono Jenny tu che hai la bottiglietta ok ok oh oh dove credi di andare tu ah dove credi di andare con quell'orso di merda che ti ritrovi è lui l'orso di merda cazzo ragazzi no vabbè ma di poco ma che palle l'abbiamo perso no ancora non l'abbiamo perso no eh si maledizione bastardi che cazzo però sono salito di livello pure io bello vediamo se mi da un personaggio nuovo ok vero mi da un personaggio nuovo damelo ma vediamo vediamo si una cassa che hai preso? oh ho preso l'hai preso un bombardino che non posso usare però un tiener giapascelli che non mi serve per amica perché non posso darlo? perché ce l'hai tu posso cambiarlo tu che metti? non lo so voglio provare questo prendi dai dai che vuol dire prendi? abbiamo una switch di personaggi ora rifacciamola con questi personaggi aspetta un attimo che vuol dire prendi? dov'è? ah ok qua cassa provo dai dai no monete energia energia che schifo che schifo rifacciamo così va bene siamo pronte ok vai sciale in montaggio stavolta mhm vabbè se hai registrazione in corso ok come funziona un parolo? ha un riccio abbastanza lungo perfetto perfetto che fa? ho ucciso qualcuno dai 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 non so più quello è fortissimo vedete? me la metto qua mi spavola cioè io la sto fottendo tantissimo sta casa io mi sto fottendo di qua ecco fatto abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo vinto basta solo utilizzare i personaggi giusti basta solo utilizzare i personaggi giusti brava vita brava cosa è un gettone a stella? ah ora ho capito come funziona lo spiego anche agli amici a casa i gettone a stella si prendono quando ma quello che ho capito quando tu sei il migliore della partita quando fai più uccisioni ah si sono stata due volte carina ecco perchè tu ce l'hai sempre si pronto? facciamo pronto è emozionante 5 giocatori su 6 no 6 su 6 stai registrando si un gioco molto natalizio si non c'è proprio natale ma c'è la cosa? c'è proprio natale in quella della mina aspettate di vedere il video del 25 vedrai quello si che è natalizio dai orso ammazzalo dai orso ammazzalo ahia perchè non va avanti ok io ho fatto 50 di danno ahia sta continuando a fare 50 di danno abbiamo vinto bello il puzzle ma cazzo 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 dai che ho vinto dai che ho vinto e abbiamo vinto bello quello perchè anche se sei dietro la pietra puoi sparare figata dai dammi il mio bel gettione dai opinione commenti com'è? è stato molto interessante e istruttivo allora il gioco da sole si non lo fa cagare però in compagnia è divertente non c'è più perso uno ed è perfetto per natale è perfetto per passare il tempo comunque speriamo che vi sia piaciuta questa mini esperienza come è? star brawler star braw star super stelle i creatori di clash and clash esatto quindi ci vediamo al prossimo speciale di natale o al prossimo video ciao ciao